Non tutti lo conoscono, confinato lungo la cerchia dei Bastioni, a sud di Prato della Valle. Eppure è un luogo di grande bellezza, in cui natura e uomo si sono saputi integrare al meglio. È il Roseto Comunale, chiamato più specificamente Roseto di Santa Giustina, per la sua vicinanza con la Grande Basilica. Aperto nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre, è una piccola meraviglia della città, con decine e decine di varietà diverse della regina dei fiori, la rosa. Non tutti sanno che a Padova c'è la rosa rampicante più grande del mondo. Eccola qui alle mie spalle, ma il Roseto di Santa Giustina non è solo questo, è uno scrigno di bellezza naturale. Rose antiche e moderne, che sfoggiano tutta la loro meraviglia nei mesi più caldi dell'anno. Ricavato là, dove il Bastione Antico ha lasciato una lieve collinetta, il Roseto è una passeggiata fra colori brillanti e profumi delicati. Uno sfoggio di bellezza commovente, che non a caso richiama le attenzioni di un gruppo di disegnatrici. Siamo qui oggi, anche se fa molto caldo a dipingere queste meraviglie del Roseto di Santa Giustina. C'è una rosa che è il soggetto preferito? No, a me piacciono tutte. Diciamo che il soggetto più difficile per noi acquarellisti è la rosa bianca, perché dobbiamo lasciarla bianca, perché non abbiamo il bianco, il bianco è il foglio. L'ingresso a questo splendido giardino si trova in via San Michele 65 e l'accesso è gratuito. Vale quindi la pena di approfittare della stagione giusta per vedere la fioritura, perché se è pur vero che ognuna di queste rose prima o poi dovrà sfiorire, la meraviglia che genere noi potrà durare ancora a lungo.